Sono il progettista e il direttore artistico del padiglione WA. Allora, sono per un'architettura, dicevo alla conferenza stampa, che non è legata a un concetto di architettura moderna o contemporanea, ancora legata alla forma. Allora, ritengo che l'architettura debba tornare a essere scienza e funzione e non gioco e passione come i movimenti decostruttivisti l'hanno ridotta. Per cui, in diverse conferenze dove ho avuto l'onore di partecipare, mi batto affinché ritorni anche attraverso l'opera della comunicazione. Non interessa assolutamente il nome Enzo Eusebi, lo potete anche oscurare, però è fondamentale che l'uomo si riappropi dei valori basic. Cioè, un professionista viene chiamato, che sia un agronomo o un architetto, per rispettare un budget, per dare bellezza, e oggi sappiamo che la bellezza è un concetto molto trasversale, ci buttiamo anche l'etica, e il tempo. Allora, quante architetture stanno dentro questo paradigma? Abbiamo visto le ultime realizzazioni assolutamente contestabili delle nostre archistare, ma le archistare hanno una grande comunione col sistema della comunicazione internazionale, quelle che portano a far quotare un quadro 187 milioni di euro. Quindi la globalizzazione dovrebbe, attraverso la comunicazione, attraverso anche l'architettura, che è un grande attrattore, recuperare questi passaggi. Allora, nel caso specifico, quando noi veniamo chiamati da un ordine, quindi non un'istituzione nazionale, quindi il primo compito è cercare di gestire con armonia un contenitore che, come dicevo, poteva sfociare per via della dimensione spaziale in qualcosa di edonistico, oppure diventare troppo semplicistico come un container. Quindi abbiamo cercato proprio di ottenere questo equilibrio. La particolarità qual è? Ho chiesto di non stare sul cemento, è stata una mia imposizione. Io non volevo stare in questa piastra di un chilometro e mezzo, per un metro e mezzo di profondità. Lo trovo assurdo. Quindi abbiamo lasciato la terra. Dopodiché non volevo spendere 7 mila euro al metro quadrato. Ho voluto un budget da 400 euro al metro quadrato. Attenzione, non con i cartongessi, ma con i migliori materiali che oggi l'industria delle costruzioni ci mette a disposizione. Naturalmente acciaio è un materiale che è stato usato dalla storia dell'uomo, ma anche per esempio l'ultima tecnologia del legno, X-RAM. Quindi sono ricomposti del legno che subiscono processi di pressione e di taglio al CAD CAM. Tornando al concept, quando la committenza ti commissiona attraverso questi budget e con tempi ridottissimi un'opera, ci poniamo il problema dell'interfaccia. Cioè chi è la nostra committenza? È erudita per accogliere un concept? Al che io ho sviluppato da circa 5 anni una sorta di equazione attraverso l'algoritmo di Grasshofer che ha introdotto dentro questo software, che è oltre l'architettura parametrica, quella che banalmente abbiamo visto con i Rhinoceros, prima ancora con Autogad e così, ma è un software dove c'è la mia storia, la mia storia dell'architettura moderna, quindi dalle Corbusier a Wright, a Capur per esempio. Quindi tutto ciò che io amo, i miei viaggi, le mie persone più care, l'ho codificata così maniacalmente, attraverso un numero, un'emozione. Domani saremo tutti così. E quindi praticamente l'algoritmo sceglie la forma. In maniera tale che chiunque verrà nel mio studio dice come vuoi questo spazio, io lo faccio così. Non ti piace? Dopo una frazione di secondo l'algoritmo farà un'altra forma. E naturalmente la forma è legata al tempo e al budget. Certo, naturalmente la scelta dei materiali è facilmente adattabile. Quindi quando parliamo di concept, in generale, nell'idea, non si affrontano le tecnologie. Però noi abbiamo una forte carica ingegneristica nel software, perché appunto per noi l'architettura ritorna a essere scienza e funzione. E quindi nell'ambito di tempi ridotti risulta assolutamente ovvio lavorare con le tecnologie a secco. All'interno delle tecnologie a secco si affrontano poi tante altre parametrizzazioni. Allora, se per esempio abbiamo la possibilità di utilizzare il legno, perché CONAF e WA, naturalmente essendo agronomi, avrebbero l'armonia, la gentilezza di utilizzare questo materiale. E quindi abbiamo scelto di utilizzare il legno, abbiamo scelto di non utilizzare il cemento, perché gli agronomi vivono di terra. Lo trovevamo abbastanza contrastante. Certo, non si vede. Sono tutte quelle cose che non si vedono e che la comunicazione dovrebbe scoprire. Naturalmente un architetto deve dare gioia a uno spazio. Lo spazio si rappresenta e vive fisicamente di elementi bidimensionali, che possono essere dei piani, tetto, dei pavimenti e delle pareti. Allora, nel momento in cui dobbiamo quindi rappresentare uno spazio, e nel caso specifico la fattoria globale, ho ritenuto parametrizzare, non all'interno naturalmente di 570 milioni di tipologie, ma sicuramente ne abbiamo parametrizzato, credo, 2000. Quindi 2000 tetti di 6 continenti, così come l'Istituto Geografico di Agostini identifica il mondo, chi ne dice 9, chi ne dice 4, comunque sono 6 piani. E quindi praticamente, allora, per esempio, ecco la scelta di queste cuspidi. Ok? E quindi sono delle cuspidi casuali. Dopodiché ho cercato, ma questo anche per una problematica di budget, per la ricerca che faccio sull'incoerenza dell'uomo contemporaneo, per il quale si vive una sorta di Dottor Jekyll e Mr. Hyde, no? Quindi come avete visto le pareti non sono coerenti, ma sono scomposte. Dove c'è il verde, c'è il linux, perché è la vita nostra. Oggi la contemporaneità ci fa vivere tante di quelle emozioni, per cui essere rigorosi diventa abbastanza semplicistico, no? Ecco, e quindi praticamente questo è un padiglione che estetizza l'incoerenza, in tempi brevissimi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.